Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio della carriera con il Bari su FIFA 23 Ripeto, ultima stagione di questa carriera che voglio chiudere con il botto Ora vi farò vedere anche il calendario, ma ho calcolato che ci vorranno questo più un altro episodio Quindi questo dovrebbe essere il penultimo episodio, al massimo se dovessero andare bene le coppe ci sarà un terzo episodio Ma comunque come vedete siamo già nel mese di aprile, nel pieno del finale di stagione Avremo le due partite contro il Tottenham che faremo in questo episodio In mezzo ci sarà anche la Roma, ci sarà l'Elas Verona che probabilmente simulerò per poi affrontare il Monza dopo il 4-3 della gara di andata Sicuramente questa gara di ritorno ce la giocheremo, semifinale di Coppa Italia per poi affrontare direi anche il Milan Seriosco ce la metto dentro in modo che poi il prossimo episodio chiudiamo proprio questa stagione Prima di andare avanti però devo ringraziare lo sponsor del video, sia Football Team Per chi non lo conoscesse, Football Team è un gioco di calcio completamente gratuito Che potete giocare senza scaricare nulla direttamente sul vostro browser, su PC o qualsiasi altro dispositivo Il gioco si presenta così, è più un gioco manageriale rispetto a FIFA, un gioco in cui dovete gestire il vostro giocatore Come vedete questo è il mio Ho creato anche una squadra, gli ASFC a cui potete partecipare anche voi, c'è spazio per altri 14 di voi Per far parte della mia squadra dovete cliccare il link in descrizione, entrare nel gioco, ovviamente iscrivervi E poi mandare la vostra candidatura, quelli più veloci avranno modo di entrare nella squadra Appena entrati nel gioco dovrete creare il vostro giocatore che tramite il training andrete ad allenare per migliorare le prestazioni Dovrete andare anche nella City per poter lavorare, per poter cibarvi, per avere l'energia, per allenarvi E ovviamente trovarvi anche un lavoretto magari part time per poter avere i soldi per potervi pagare da mangiare E come su FIFA potete anche ottenere dei pacchetti giocando oppure nel negozio potete anche acquistare le chiavi che vi permettono di aprire i pacchetti A questo punto vi aspetto su Football Team, cliccate il link in descrizione, entrate a far parte del mio team Ripeto 14 di voi potranno entrare quindi i posti sono veramente limitati Ma comunque in generale vi consiglio di dare un'occhiata a Football Team, ripeto è gratis quindi ne vale la pena almeno provarlo Detto ciò andiamo avanti con l'episodio Mi raccomando ragazzi non vi voglio forzare ma se volete supportarmi con questi ultimi episodi Mi raccomando lasciate un bel mi piace, non vi dico il numero di mi piace però supportate Mi raccomando questo finale di stagione vorrei chiudere in bellezza questa carriera Come vedete siamo a 57 punti, è un campionato molto aperto a 7 giornate dalla fine Siamo tutte con le stesse partite e come vedete siamo a meno 3 dal nostro obiettivo Che è il quarto posto dove c'è l'Atalanta ma soprattutto siamo a soli 8 punti dall'Inter Che abbiamo battuto proprio nell'ultima partita dello scorso episodio C'è anche la Juve con gli stessi punti, la Roma che affronteremo proprio adesso è a meno 1 dal primo posto Quindi comunque sarà una partita che vorrà vincere Secondo me se contro la Roma non riusciamo a fare i 3 punti Credo che per lo scudetto ormai sia andata perché poi mancheranno troppe e poche partite Quindi direi che non è fattibile Ora comunque affronteremo il Tottenham Vi faccio vedere un po' il quadro generale Negli ottavi di finale abbiamo affrontato la Ruka, battuto 5 a 1 Il turno preliminare non l'abbiamo fatto visto che i gironi abbiamo vinto, dominato Senza perdere neanche una partita con 16 punti Ai quarti affronteremo il Tottenham Nelle altre sfide sicuramente quelle un po' più diciamo preoccupanti Anche se il Tottenham è quella più forte C'è la Ted Bilbao, c'è il Ghent, forse anche il Twente C'è anche il Bruges Dipende comunque essendo alla quinta stagione Che acquisti avranno fatto, che giocatori saranno cresciuti Quindi ogni squadra poi nel corso di queste 5 stagioni può essere cambiata totalmente Noi siamo cambiati tantissimo Ora affronteremo il Tottenham Con la nostra formazione titolarissima Tutti pronti per giocare Addis al sede o titolare con Esposito sulla destra Visto che Damsgaard è un po' stanco Loro hanno una bella formazione Hanno soprattutto la difesa 5 che mi preoccupa veramente tanto E hanno soprattutto anche l'ex Kerkes Che sicuramente mi purgherà Ma in generale hanno veramente una bella squadra Noi non siamo da meno Sarà difficile Partiremo al San Nicola Saranno 180 minuti veramente di fuoco Ma vediamo di entrare nella storia Siamo già nella storia Ma vediamo di arrivare fino in fondo Perché questa carriera la voglio chiudere in bellezza Parte subito il Tottenham Occhio ad Harry Kane Uh subito dentro Sinisterra Bravo Castils Calcio d'angolo per loro Battuto corto Con ancora Sinisterra Gran bel giocatore Palla dentro Occhio ad Harry Kane Nel tiro brutto di Lenormand Ristante Ah perde un brutto pallone Occhio ad Harry Kane Shoot Lo prova a chiudere Bravo Ma sarà calcio d'angolo Andrà Gonzalvez Dalla bandierina sul primo palo Harry Kane riesce a prolungare Stacca molto bene Lenormand All'ottavo minuto Siamo subito sotto Alla quarta occasione Per il Tottenham Arriva il gol Del vantaggio Attacchiamo adesso noi Con Esposito Singo Ci affacciamo un po' Sulla loro metà campo Cross Salcedo un po' troppo dietro Ci proviamo comunque Passa Sinisterra Singo Prova a recuperarlo Bravo col fisico Qua rischiamo anche qualcosa Esposito si gira molto bene Possiamo provare a ripartire Bravissimo E di Salcedo Vai Scamacca Bella palla per lui Forse leggermente lunga Lenormand Chiude bene Che giocatore Lenormand Occhio da Henry Kane Larghissimo sulla fascia Ad aiutare la manovra Sinisterra Cristante non riesce a recuperare il pallone Ma sbaglia qua Sinisterra Quindi ripartiamo con Pascal Leon Prova ad andare da solo Spenzo non riesce a tenerlo Ah perde il pallone Pascal Leon Ci serve la giocata Perché loro hanno sempre un uomo in più in difesa Occhio adesso anche che loro ripartono molto bene Ma c'è fuori gioco No assolutamente no Gol di Sinisterra 2-0 Tottenham che sfrutta tutte le occasioni Dobbiamo rimboccarci le maniche Una partita difficilissima È iniziato il secondo tempo Dobbiamo cercare di bucarli subito Uh attenzione Abbiamo una grossissima chance Stira male Scamacca Ma è un assist Per Pascal Leon Aveva fatto un erroraccio Scamacca Ma Pascal Leon si fa trovare il posto giusto Al momento giusto Gol Che riaccorcia le distanze 1-2 Ora però dobbiamo cercare almeno di pareggiarla Davanti ai nostri tifosi Perché lì da loro sarà difficilissimo Qua erroraccio di Scamacca Ma forse era voluto Diciamo così Pedro Gonzalves Chiuso molto bene Sciuta Allora dobbiamo sfruttare anche questo vantaggio psicologico Per cercare di trovare il gol del pareggio Bella palla per Pascal Leon Vai Pascal Dentro c'è Singo E scusate Eddie Salcedo Può aprire il piattone Palla fuori Non di molto Che si è mangiato Salcedo Valungo Unai Simon Bravissimo Doji Per Scamacca Di tacco per Eddie Salcedo Stiamo giocando una bella partita con i nostri attaccanti Salcedo Vede Singo Lo serve molto bene Se la mette sul mancino Cross sul secondo palo Svetta Scamacca Ma non riesce a beccare lo specchio dalla porta Però bravissimi i nostri Stiamo giocando nettamente meglio rispetto al primo tempo Se allunga il pallone Kerkes Forse non la scelta migliore Ma la palla comunque resta per loro Sinisterra Dobbiamo chiuderlo Anche se è difficile rubargli il pallone Palle e mezzo Lombardi Prova a chiudere Messo giù Pedro Gonzalves Ma senza fallo Meno male Sale grave Merce a gamba Allarga su Pedro Gonzalves Che proverà a mettere il pallone dentro Ma Lombardi Chiude bene Ma poi non riesce a liberarsi del pallone Quindi Pedro Gonzalves Che perde forse l'attimo Torna dietro da Spence Ancora loro Con grave Perce Pedro Gonzalves Bravissimo Lombardi Che chiusura Ripartiamo Eddie Salcedo per Pascal León Guardate come sono piazzati Difficilissimo affrontare la loro difesa Ripartiamo però con Pascal León Che c'ha Molta più velocità degli altri Scamacca chiede il pallone Ma non riesco a servirlo C'è il tocco forse di mano Ma non c'ho i falli attivati Quindi può ripartire il Tottenham Sinisterra Largo su Milo Scher Che è una partita Veramente infiammata Non ci si ferma un attimo Vitigna Tiene il pallone Bravissimo Singo E ora ripartiamo noi Che sono saliti con tanti uomini Va Singo Può servire Eddie Salcedo Uh Gran palla Per Scamacca Che poi O è in fuorigioco O l'ha toccata con la mano Ma in entrambi i casi Comunque Non c'è fallo C'è c'era il fallo Veramente peccato Ora è arrivato anche il momento Di un paio di cambi Esposito lo faccio giocare in mezzo Dentro Marchetti E direi dentro anche Fofanà Centrocampo Vitigna In mezzo a tre Fofanà E Marchetti lo aiuta Pobega Ripartiamo Verso Pascal Leone In mezzo Dai Sposito In prima intenzione Per Scamacca Scamacca Perde l'attimo Norman chiude molto bene Direi che è arrivato il momento Di mettere dentro Piontek E metterei dentro Anche Gaetano Occhio a Pedro Gonçalves Bravo Lombardi Fortunatamente stiamo difendendo Molto bene Non perdiamo il pallone qua Veramente Prestano in un modo incredibile Occhio a loro Bell 1-2 Ancora Kerkes Bravo Lombardi Che giocatore Ha fatto un partitone Veramente da giocatore Superiore Veramente Ripartiamo Con Marchetti Che la tiene in campo Ma serve Gravenberge Siamo veramente stanchi L'intensità del Tottenham Si fa sentire Non manca più tantissimo Appena è entrato adesso Piontek Che anche Gaetano Anche se manca Forse i minuti di recupero Cerchiamo di recuperare il pallone E provare un'ultima occasione Ma soprattutto Non subirne un altro Mamma mia Guarda te che culo per loro Pedro Gonçalves da fuori Abbiamo un minuto Vai Gaetano Sei fresco Gaetano Fammi una bella giocata Per Piontek Vai Pistolero Vai Pistolero Contro un DD Contro un DD Piontek ha tenuto Piontek giocatore incredibile Vai Piontek Servimi dentro Marchetti Palla molto buona Per Pobega Che la perde Non è la prima volta Rischiano tantissimo Ma niente Fisca l'arbitro Finisce 1-2 Ci giocheremo tutta la gara di ritorno Ora pensiamo alla Roma E poi andiamo a Londra Per cercare di prenderci la semifinale Ora andiamo ad affrontare la Roma Al terzo posto Gara fondamentale Se vogliamo tenere aperta La questione Scudetto Anche se ve l'ho detto Secondo me è difficilissimo Però se vinciamo Gli scontri diretti che abbiamo Possiamo avere una chance Ma avendo anche le altre competizioni Secondo me la Rosa Non è ancora pronta quest'anno Ma vediamo un pochettino La Roma è una squadra molto forte Non è imbattibile Nessuna squadra è imbattibile Quindi giochiamocela Con tanto turnover Purtroppo perché Tra qualche giorno Avremo ancora il Tottenham E tanti sono stanchi Pobega l'unico che stringe un po' i denti Ma quello ha tre polmoni Andiamo ad affrontare la Roma E vediamo di tenere aperta La questione Scudetto E soprattutto il quarto posto Se vogliamo raggiungerlo Dobbiamo vincere le partite Dani Olmo Al limite dell'area Bravi nostri Però c'è fallo Fallo dal limite dell'area E lo tirerà Malinoski Vado a chiudere già sul palo Anche se la vedo dura Riuscire a pararla E andava all'incrocio Infatti Fanno gol comunque E devono fare gol per forza Segna Gabriel Verona Stiamo tranquilli Minchia Appena ho detto stiamo tranquilli Fallaccio proprio Mi sa di Gabriel Verona E questo è un fallo Non dico da rosso Ma almeno da giallo Occhio a Pulisic Che scatta sulla fascia Cerchiamo di chiuderlo con Ginica Un cliente non facile da marcare Vitini al limite dell'area Gabriel Verona Ancora loro Perde il pallone Malinoski Ripartiamo con Gaetano Che non ha tantissima gamba Ma può servire Eddi Salcedo Che invece può andare in velocità Contro Diuton Zebe Il nostro ex Bravo Eddi Salcedo È passato molto bene Può mettere un bel pallone Per il pistolero Che chiusura di Senesi Ancora noi Con Damsgaard Che non riesce a chiudere Con il tiro Eddi Salcedo Tocca per Pobega Quindi Fontana Rosa Scatta molto bene in velocità Può provare a mettere Anche il pallone dentro Gaetano Fa la bella sponda Per Eddi Salcedo Come è sceso giù bene la Font Gabriel Verona Mamma come sale bene la Roma Con tanti giocatori Giovani e di qualità Noi però Recopriamo bene il pallone Col pistolero Che serve molto bene Eddi Salcedo Non chiude bene Gabriel Verona Quindi Eddi Può scattare in velocità Anche se non insegue To Anzebe Che non è da meno Bravo per Eddi Salcedo Che però Non riesce a passare Su Pamecano Fontana Rosa Pobega Pofana Bella azione Occhio Pobega Può provare la botta Col mancino Fuori non di molto Damsgaard Subito verso Fofana Attenzione che c'è un po' di spazio Per Gaetano Pamecano su di lui Ancora Gaetano Forse in fuorigioco Pionte Che è in fuorigioco Peccato Julian Alvarez Largo per Gabriel Verona Ancora loro Julian Alvarez Imprendibile Bravo Castils Rimessa laterale per la Roma Va tutta molto bene Julian Alvarez Prova a passare Minca è imprendibile ragazzi È imprendibile Segna la Roma 2-0 Con Dani Olmo Damsgaard Uh c'è Gini Non può mettere il cross in mezzo Però attenzione Palla dentro Non arriva Pobega Non siamo neanche troppo fortunati In questa partita Occhio Rigore Ecco l'ho appena detto Rigore di Fofana Che fa un brutto fallo Su Vitigna Calcio di rigore Che potrebbe chiudere la partita Julian Alvarez Contro Castils La vedo Veramente brutta Lo tira a destra E invece va a sinistra L'incrocio è imparabile La Roma nettamente più forte Vi dico Adesso pensiamo al Tottenham Vado al risultato È andata così Purtroppo Fanno addirittura il 5-0 Con Nova Che fa una doppietta Non so chi sia E niente ragazzi Direi che se c'era un 1% Per lo scudetto È completamente andato Concentriamoci Comunque sul quarto posto E soprattutto Sua Conference League Visto che adesso Avremo il Tottenham E spero ragazzi Che la formazione Sia abbastanza fresca Tra l'altro Poi avremo anche il Monza Quindi preferisco Concentrarmi su questo Il quarto posto Comunque è abbordabile Quindi rimettiamo Un po' i titolari Gini ovviamente Giocherà al posto di Singo Anche Scamacca Ovviamente giocherà Mesa volevo farlo esordire Ma magari ci sarà Un'altra occasione Pascal Leon Ovviamente giocherà E direi che in mezzo Faccio giocare Esposito E Piontek ovviamente Me lo porto Magari Gaetano no E direi che ci siamo Possiamo andare ad affrontare Questa partita Formazione fatta La titolare ovviamente Per affrontare il Tottenham Dopo il 2-1 Della gara di andata Non sarà facile ovviamente Fuori casa Contro una squadra Molto forte Sempre con la difesa 5 Avranno anche i loro tifosi A supportarli Quindi sarà Veramente dura Noi l'unico cambio Rispetto alla scorsa partita È Fofana Forse anche Damsgaard Non giocava Giocava al suo posto Salcedo Damsgaard era stanco Del resto La formazione è sempre quella Direi anche per loro Non sarà facile Ma vediamo di fare A loro c'hanno Son Capitano Che non c'era Nell'altra partita C'è la sinistra Che mi sono in difficoltà Ma Son Mi spaventa un po' di più Andiamo ad affrontare i ragazzi E come va va Ma se riusciamo a battere il Tottenham Veramente la conference Praticamente nostra Ed è tutto pronto Al Tottenham Hotspur Stadium Per questa sfida La devo fare l'intro Guardate che bel colpo d'occhio Per questo Tottenham Hotspur Bari Veramente gara Leggendare Che rimarrà negli annali Di tutti i tifosi del Bari E non solo Una partita Importantissima Siamo sicuramente La squadra Che nessuno si aspettava Potesse arrivare a questo livello Soprattutto Nei cinque anni di lavoro Questo può essere un po' Un coronamento Di quello che è stato Il nostro lavoro Vogliamo chiuderlo però In bellezza L'Atletic Bilbao Ha vinto 6-0 Mamma mia Pensiamo però a noi Che dobbiamo recuperare Un 2-1 Che non è un risultato Irrecuperabile Però il Tottenham È una bella squadra Avranno anche i loro tifosi Quindi non sarà facile Iniziamo subito questa sfida Forza Forza Bari Voglio tutto il vostro supporto Godiamoci questi 90 minuti E vediamo di far andare la storia Questa squadra Bravo Fofana Recuperato subito il pallone Dobbiamo giocarci Ogni piccola situazione Che abbiamo Ecco a Scamacca Lo marcano veramente bene Sale Gravenber C'è dentro Bravo Shootalon Dobbiamo perdere Palloni qua Minchia l'ho appena detto Incredibile Incredibile Arriva il gol Di un minson 1-0 per il Tottenham Non ci voleva Dovevamo E potevamo evitarlo Sto gol Non voglio neanche vedere il replay Mamma mia Sarà difficilissimo adesso Abbiamo due gol Da recuperare Udoji Vai Esposito Largo Pascal Leon Spingi Pascal Pascal Dentro per Scamacca Non riesce a tirare Tira malissimo Poi Damsgaard E Unai Simone esce Tiene il pallone Passato molto bene Kerkes Oddio al nostro ex Mamma mia Incrocio dei pali Dobbiamo stare Molto più bravi A difendere Perché se no qua Rischiamo Di prendere la purga Ripartiamo con Scamacca Che in velocità In qualche modo Riesce a passare Proviamo a metterla in mezzo Dove in due si scontrano Ma non c'è nessuno dei nostri a chiudere Ancora noi Recuperato il pallone Ripartiamo Con Pobega Mamma mia Pobega Quanti palloni Sbaglio Altissimo di overhaul È completo in tutto Ma in game Rendono molto di più Altri giocatori Veramente un peccato Lì un altro centrocampista Mi avrebbe messo Un gran pallone Ok adesso loro Pedro Gonzalves Castils Dobbiamo rientrare in partita Al momento il Tottenham Ci sta dominando Pobega Bravo di testa Verso Pascal Leone Quindi Scamacca Ripartiamo Vai Scamacca Carica un po' Sulle spalle La squadra Scamacca Serve Pobega Bel lavoro di Giallucone Poi Scamacca E Pobega Non riesce a servire bene Ma di testa È molto più bravo Che con i piedi Vai Singo Vai Singo Metti un bel pallone dietro E chiudono sempre molto bene Sta difesa a 5 l'odio Occhio Spence Palla dietro Ci arriviamo noi Fofana Forse c'è tempo Per un'ultima occasione Prima della fine del primo tempo Palla larga Per Singo Dobbiamo portare su un po' Di uomini Perché se no Non ce la facciamo Damsgaard Serve molto bene Fofana Tra le linee può passare C'è Esposito Prova subito Il tiro Ah Non era neanche male Ha preso in controtempo tutti Ma Unai Simon Gli arriva il pallone addosso Però dai È stata una bella chance Vai Damsgaard Mettimi un bel pallone dentro Scamacca Unai Simon Iominson Per il Tottenham Verso Henry Kane Che coppia ragazzi Occhio ancora loro Palla Su Gravenberce Sinisterra Appena entrato Dal posto di Gonzalves Batte corto Su Iominson Palla fuori Vitignia È uno schema Vitignia non va al tiro Tiene in qualche modo Però il pallone Ancora loro Iominson Titacco Azione infinita Non capisco il senso Batte forse aveva toccato di mano Ma si può ripartire Pascal Leone Subito per Scamacca Appoggia verso Esposito Non abbiamo troppi sbocchi Palla verso Pobega Allarghiamo dove c'è più spazio Verso Udoji Dentro su Pascal Leone Ma guardate come si chiudono bene Squadra molto brava difensivamente la loro Occhio Adesso però A Scamacca Ed eccolo qua il gol Nell'1-1 Che riapre la sfida Abbiamo ancora un sacco di tempo 30 minuti 35 minuti Pi recupero Per recuperare questa partita Ci serve un altro gol Per i supplementari O due Per vincere Qua sfruttiamo Forse una delle pochissime chance Di questa partita Bravo Scamacca Sale il Tottenham Con Sinisterra Chiuso molto bene da Lombardi Poi Fofanà Stanno giocando tutti un partitone Scamacca Palla su Damsgaard Può andare in velocità Damsgaard Assolutamente sì Ma da dietro Badeco Mette anche fallo Gravenber Avanza palla al piede Fofanà fisicamente Non riesce a tenere Ancora loro Henry Kane A limite dell'aria Henry Kane non riesce a tirare Palla Che in qualche modo Arriva a noi Con Cristante Che però ci ha messo Un'ora a servire Meno male Che il pallone resta per noi Singo Scamacca Solito gioco Uh Gran palla per Pascal Leon Pascal La giocata della tua vita Pascal No Mamma mia In tre l'hanno chiuso L'hanno tenuto Non ha avuto il modo di passare Palla ancora per noi Scamacca Ecco qua Pascal Leon Troppo centrale Unai Simone La riesce a tenere Ci siamo mangiati due occasioni Ghiottissime Per andare in pareggio Ora il Tottenham Fa addormentare un po' La partita Tiene molto il pallone Noi dobbiamo cercare di Sfruttare il contropiede Eccolo qua l'errore Da parte loro Pascal Leon Servi Va bene anche Esposito Partito Damsgaard Nel momento giusto Lo devi servire Bella palla C'è anche Scamacca sul secondo palo Prova a servirlo Bella palla Troppo sul portiere Ma ci arriva il loro difensore Ancora Liudogi Stoppa Malissimo Poi stoppa Perché ho parlato così Mancano pochi minuti Occhio che rischiano tanto Sui Unai Simone ha subito anche il fallo Ma l'arbitro non l'ha visto Non l'abbiamo visto nemmeno noi Damsgaard Con calma Fofana Cristante Quindi Pascal Leon Ancora verso Cristante C'è un po' di spazio No Cristante Pure tu ti devo tirar fuori Che errore Dobbiamo sfruttarle Queste occasioni Ora ripartono loro Potrebbero chiudere la partita Da un momento all'altro Anche perché siamo Un pochettino sbilanciati In questo momento È passato il palone In qualche modo Milo Scherkes Occhio ad Enrique Bravo Castils Ora devo giocarmi Il tutto per tutto Metto un 4-2-4 Con Pascal Leon Damsgaard lo gioco A metà campo Con Cristante E metto dentro ovviamente Piontek Lo metto in attacco Con Non so se metterlo Con Scamacca O meno Potrei mettere dentro Anche Marchetti Che forse è fresco Al posto proprio di Scamacca E faccio giocare Esposito con Piontek Calcio di punizione Abbiamo 5 minuti pieni Più recupero Non manca tanto Cristante Madonna Quanto sei lento Cristante Proprio adesso Ti devi addormentare Porca miseria Ripartiamo Con Esposito Mamma mia Hanno dei difensori Clamorosi Non manca più tantissimo Sessegnon Occhio a Kerkes Bravo Lombardi Però regala il pallone Agli avversari Un minuto e mezzo Più recupero Sbagliano anche loro Cristante Ripartiamo Pascal Leon Verso Michael Damsgaard Esposito C'hai spazio Vai Esposito Vai Esposito Vai Esposito Non puoi sbagliare Esposito Un po' troppo defilato No Ma come ha chiuso bene Lennormann È un fenomeno Non ci credo È finita È finita Ragazzi È finita Mi dispiace Niente Siamo fuori dalla Conference League Mi dispiace tantissimo Era un'occasione Ghiottissima Me la sono mangiata Ma mi ha chiuso benissimo Lennormann Ha corso il doppio di Esposito Veramente peccato Il Tottenham Era nettamente più forti di noi Mi dispiace tanto Questa doveva essere una finale Una partita da Almeno Europa League Invece il Tottenham Mi sa che ora si invola Verso la vittoria Della Conference League Comunque ce la siamo giocata Un gol solo Di svantaggio Ora abbiamo soltanto Campionato Per ottenere Un piazzamento Più alto possibile Non credo lo scudetto E poi la Coppa Italia Che a questo punto È l'obiettivo finale